Sassuolo 1 Inter 2 Sassuolo Inter vince l'Inter doppietta del professor Edin Dzeko in mezzo il gol di Fratesi che ha rischiato di riportarci nello psicodramma l'Inter dà continuità alla vittoria in Champions contro il Barcellona aggiunge un altro tassello di guarigione possiamo dire così Simo non mi ritengo ancora guarito perché dobbiamo continuare su questa strada sicuramente ma una vittoria così dopo le fatiche di Champions dopo la sconfitta contro la Roma in cui tanti in chat dicevano comunque qualcosina di incoraggiante si è visto veramente importante su un campo storicamente insidioso che storicamente per l'Inter lo abbiamo detto più volte rappresenta il Sassuolo un avversario decisivo per la stagione in molti momenti porta a casa una vittoria dove contava solo il risultato secondo me io non mi aspettavo oggi di vedere un Inter in dominio del gioco dal primo all'ultimo minuto non mi aspettavo di vedere un Inter totalmente ritrovata assolutamente no porta a casa il risultato lo fa secondo me lanciando un messaggio ancora più importante perché lo fa tornando a vincere dopo aver subito gol questa era la grande paura che ho avuto in partita perché l'Inter ha fatto secondo me una partita intelligente nella prima parte è riuscito a sbloccarla ancora una volta sul finire del primo tempo prende gol nel secondo tempo in un momento in cui stavamo andando in difficoltà solitamente fin qui abbiamo visto un Inter che quando prende il gol poi scompare e va a perdere il rischio c'era la paura c'era siamo stati bravi attenti l'abbiamo portato a casa tornando in vantaggio e andando a segnare il gol decisivo con Edin Dzeko doppietta veramente grande buonissima partita sicuramente di Edin Dzeko per me questo è un segnale ancor più incoraggiante della singola vittoria l'essere riusciti a vincere anche dopo aver preso gol è un segnale in controtendenza rispetto all'inizio di stagione esatto questo è il punto più importante secondo me perché si stava abbiamo tutti avuto in mente insomma la solita dinamica con l'Inter che va in vantaggio prende gol e poi si scioglie e perde due o tre a uno cosa che era successo praticamente quasi sempre invece segna questa partita un punto di uno spartiacque una differenza rispetto al solito peraltro contro una squadra che comunque è pericolosa in un campo e contro una squadra che comunque anche nella storia recente ti ha creato dei problemi quindi fantasmi ne potevano se ne potevano generare anche da questo invece l'Inter continua a giocare con gli stessi nostri punti in classifica ricordiamolo tra l'altro tra l'altro quindi anche questo si aggiunge l'Inter invece continua a giocare non mi sembra nemmeno si sia fatta prendere dal panico perché comunque il gol del Sassuolo arriva al sessantesimo ma i 15 minuti precedenti della ripresa avevano avuto un paio di occasioni c'era nell'aria un po' di sofferenza lo dicevamo anche in cronaca e l'Inter però non si è fatta prendere dal panico ha continuato a giocare non col gioco spumeggiante che finora non si è mai visto sostanzialmente e temo anche loro che siamo arrivati al punto di doverci forse un pochino dimenticare quell'Inter là che forse è stata fin troppo oltre le sue potenzialità e continuare a fare questi raffronti non fa bene soprattutto all'Inter stessa però continua a giocare appunto ha un compaglio di occasioni e poi trova il gol con dicevamo l'attacco è corto se dobbiamo fare un cambio cosa facciamo? aiuto il professore quando serve nonostante l'età scende in campo stravince il confronto a distanza con Pinamonti che in estate qualcuno avrebbe voluto proprio il suo posto e ci porta a fare tre a ottenere tre punti importanti e sono d'accordissimo quando dicevi che contano i punti perché uno ne abbiamo persi troppi due se vogliamo tra pochi minuti inizierà Mila Juventus e quindi anche nell'ottica di rosicchiare dei punti a una o a entrambe la cosa fondamentale era vincere appunto sì 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 ma infatti allora adesso è chiaro adesso andiamo ancora un po' più in profondità e poi tra poco Simo ti dico se ci fai un riepilogo delle occasioni dove l'Inter secondo me anche contando puramente le occasioni ne ha create molte di più del Sassuolo e ha legittimato questa vittoria che sarebbe potuta essere anche più larga dal mio punto di vista in chat vedo tanti commenti abbiamo giocato da far schifo qualcuno dice se avessimo giocato contro il Napoli avremmo perso 5 a 0 ma non lo so ragazzi secondo me bisogna essere oggettivi e bisogna essere consapevoli di tanti fattori che hanno contribuito a far sì che la partita andasse in questo modo il primo non siamo in un grande momento di forma questo è abbastanza evidente se una settimana fa il clima post Inter Roma ragazzi lo sappiamo che clima era una settimana fa qui c'era un tutti contro tutti la chat infuriava di inzaghi fuori questi via dirigenti via presidente Vattene eccetera eccetera oggi stiamo commentando ad una settimana di distanza una vittoria contro il Barcellona ed una vittoria contro il Sassuolo sporca quanto volete ma oggi contavano i tre punti e basta secondo me questo è il momento in cui contano solo le vittorie anche perché di partite in cui avremmo potuto fare di più cioè dove comunque avremmo potuto portare a casa di più poi non abbiamo vinto ce ne sono state tante e lì non si diceva eh però abbiamo giocato bene si diceva eh però bisogna vincere questo vale anche al contrario sul gioco spumeggiante lo diceva anche Simone tra le altre cose le fatiche di Coppa si sono sentite io ho ribadito più o più volte in settimana ragazzi contro il Barcellona l'Inter ha fatto una partita estremamente dispendiosa 125 km percorsi quando mediamente l'Inter ne fa 110 la Lazio che è la squadra che corre più di tutti ne fa 111 di media lì ne abbiamo fatti 125 ma poi anche l'intensità ad un livello veramente superiore quindi per questo motivo ci sono stati anche tanti cambi è stato un Inter oggi ben lontana da poter dire che fosse l'Inter titolare quella scesa in campo oggi con D'Ambrosio e Acerbi al centro della difesa bastoni sulla sinistra tra l'altro tra poco parliamo di bastoni Aslani davanti la difesa davanti Lautaro e Dzeko che stanno comunque giocando tanto e soprattutto Lautaro Martinez senza riposo praticamente mai e non c'erano nemmeno cambi in panchina perché i cambi erano veramente pochi e limitati viste le assenze in questa partita qui quindi dando anche queste attenuanti dando anche quando quindi tutte le considerazioni da fare per me riuscire a vincere una partita così comunque credo che l'Inter abbia speso sì ma non si è totalmente azzerata e è riuscita a gestire anche qualche energia in vista poi della prossima partita contro il Barcellona che sarà decisiva per il nostro futuro in Champions io oggi vedo più elementi positivi rispetto a quelli negativi di negativi c'è sicuramente da sottolineare un gioco troppa frenesia come abbiamo detto più volte nell'andare in verticale in alcuni momenti in cui si poteva gestire un po' meglio la palla ancora una volta troppi errori sotto porta cioè troppa poca precisione in zona gol e questo in partite così potenzialmente sporche pesa tantissimo l'Inter avrebbe potuto tranquillamente chiudere la partita già nel primo tempo con un pizzico di precisione in più e qualche svarione difensivo abbiamo preso ancora una volta gol sempre allo stesso modo con la difesa che si fa bucare sempre allo stesso modo quindi Simo dimmi un po' se ci riepiloghi un po' le azioni di questa gara per chi non avesse visto la partita sì ma le riguardavo proprio adesso sono abbastanza d'accordo con quello che dicevi prima l'Inter non ha fatto una partita spumeggiante però dire che non abbia meritato di vincere diciamo che il pareggio non sarebbe stato un furto da parte di nessuna delle due squadre però se c'era una delle due squadre a meritare di più la vittoria questa secondo me era l'Inter la prima occasione è per il Sassuolo con Frattesi che si trova contro un reattivo Onana al quarto minuto poi al tredicesimo c'è l'occasione una delle due occasioni più grandi della partita al netto dei gol ovvero l'occasione in cui Lautaro si divora letteralmente un gol su un bel cross teso di Dumfries che mette a lato di sinistro c'è la Noglu fuori di poco al ventiseiesimo e poi il gol di Dzeko a un minuto dall'intervallo che ci porta appunto in vantaggio e a riposo nella ripresa ti dicevo prima nel primo quarto d'ora il Sassuolo ha creato ha cambiato quali cosina anche nel modo di aggredirci sul giro palla dietro e secondo me si è visto perché ha avuto due occasioni entrambe di testa una con Ferrari e l'altra con Seide e poi c'è arrivato il gol di Frattesi al cinquantanovesimo in un'azione che ancora devo capire chi abbia le maggiori responsabilità anche se ho la sensazione che Bastoni lì faccia un errore di lettura esatto non da lui esatto poi dicevamo però l'Inter comunque non smette di costruire non si fa prendere dal panico e anche dalla foga che spesso invece ha dimostrato buttandosi tutti avanti quindi scoprendosi ulteriormente all'avversario trova un consiglio che fa un miracolo incredibile su Lautaro ed è la seconda occasione enorme al settantaquattresimo un minuto dopo arriva il gol di Dzeko su un bello scambio sulla fascia sinistra fra Darmian e Mkhitaryan cross di sinistro Ferrari secondo me si fa a girare in maniera troppo facile da Dzeko che però è bravo e la mette dentro e poi all'ottantesimo arriva un'occasione dell'autaro che calcia altissimo oggi l'autaro mirino un po' sballato verso la porta quindi andava un attimino sistemato però comunque a livello numerico ma soprattutto proprio di importanza l'Inter fa due gol e ha due occasioni giganti con Lautaro che secondo me legittimano una vittoria che tutto sommato è meritata poi non ho sotto mano il numero diciamo dei tiri possesso palle eccetera però così a occhio mi sembra che sia meritato tiri siamo 15 a 15 se non sbaglio stavo leggendo nella chiusura finale la sensazione di pericolosità però io ce l'ho avuta soprattutto dall'Inter era anche la parata di consigli cioè un anno è stato costretto ad una parata su frattesi per il resto non ho visto grandi pericolosità creata dal Sassuolo tra l'altro citavi Ferrari piccola parentesi io ripeto se qualcuno dovesse avere qualche link per rivedere c'è un episodio nel secondo tempo dove Ferrari già munito si aggrappa alla maglia di Lautaro Martinez lo tira a terra per me sarebbe da secondo giallo però non è stato fatto vedere nessun nessun replay quindi se qualcuno ce l'ha sono curioso di rivederlo io andando in chiusura di questa clip Simo continuo continuo a dire questa cosa forse non so magari sbaglio io magari ha ragione chi si aspetta che ogni partita l'Inter vada in campo domini l'avversario faccia tre gol e non gli faccia toccare nemmeno il pallone per me il bel gioco è anche giocare in maniera intelligente oggi l'Inter commettendo degli errori mi aspettavo maggiore precisione maggiore attenzione negli inserimenti soprattutto di Fratesi che cioè se avete visto le nostre preview della partita l'abbiamo detto cento volte che quello sarebbe stato uno dei grossi pericoli abbiamo parlato anche di Lauriente che invece è stato contenuto abbastanza bene ecco su Fratesi si poteva contenere meglio sicuramente per il resto secondo me il bel gioco è anche giocare in maniera intelligente l'Inter secondo me ha giocato in maniera intelligente soprattutto nel primo tempo consapevole delle caratteristiche del Sassuolo mettendo in difficoltà una difesa lo ripeto l'ho detto nel pre partita questa difesa del Sassuolo è molto più compatta quest'anno prima di questa partita aveva preso otto gol solo cinque squadre del campionato italiano avevano preso finora meno gol l'Inter ne aveva presi tredici prima di questa gara per farvi capire il Sassuolo è la squadra che ha concesso meno tiri al proprio avversario in Serie A solo la Fiorentina ne ha concesso uno in meno del Sassuolo per farvi capire quindi è una squadra molto forte difensivamente quest'anno che faceva molta densità che salvo quando gioca contro il Milan concede pochissimi regali alla squadra avversaria almeno quest'anno e infatti Dionisi aveva detto che scendevano in campo con un atteggiamento diverso perché non volevano fare la figura fatta col Milan ovviamente con noi cambia tutto ma lo sappiamo per cui per me il bel gioco è anche questo essere intelligenti mentre ringraziamo tantissimo Marzio adesso lo leggiamo nel sapere chi hai di fronte nell'essere consapevole del momento che stai vivendo delle difficoltà che stai avendo agire di conseguenza a portare a casa il massimo ovvero la vittoria anche perché lo dicevo all'intervallo la vittoria contro il Barcellona a San Siro ti ha aperto un ventaglio di possibilità nel Girona Champions dove secondo me sotto sotto l'Inter più o meno sapeva di essere spacciata perché obiettivamente sono squadre troppo forti le altre due però vincendo a San Siro col Barcellona cosa fai? Vai al Camp Nou e non ci provi certo che ci devi provare ed essendo la gara di Sassuolo in mezzo fra le due inevitabilmente questa partita dovevi fare delle rotazioni e portare a casa i tre punti nella maniera più andando a ricercare l'efficacia non la bellezza chi se ne frega dalla bellezza cioè una squadra che non funziona come fa a pretendere la bellezza? è come se tu hai una casa che non ha il tetto però prendi il quadro bello e no ma prima devi mettere il tetto se no è un problema una volta che tu hai la struttura solida puoi permetterti di abbellire ma sul momento l'Inter non può dare la priorità al gioco spumeggiante se poi prende troppi gol dietro e non riesce ad essere continuo alla partita questo sinceramente non lo capisco senza contare soprattutto secondo me c'è quel discorso che dici tu quando giochi bene e perdi nessuno viene qua a dire abbiamo giocato bene alla grande no sono tutti incazzati giustamente quindi prima il risultato soprattutto in questi momenti e poi vediamo il resto anche perché vedo qualche commento in chat come dicevi prima contro il Napoli perdi 4 a 0 discorso completamente senza senso perché ogni volta che si dice giocando così contro X perdi Y alla fine contro quella squadra non giochi così e magari fai bene vedasi Barcellona l'Inter contro Barcellona quindi questo discorso è completamente insensato come dico sempre Simo altrimenti si giocherebbe una partita all'anno poi da lì fai tutti i calcoli siccome hai giocato così con quello allora con l'altro farai così vabbè a parte questo chiudo dai chiudiamo questa clip a livello di singoli molto molto rapidamente bastoni male sul gol secondo me ha tante responsabilità mentre Onana poteva far poco lì quello va a colpire di testa veramente da due metri non mi è piaciuto Barella personalmente oggi l'ho visto giù di tono Lautaro si sbatte tanto dà tantissimo però sottoporta oggi ha sbagliato troppo e mi aspetto di più mi sono piaciuti Michi Tarin ha sbagliato qualcosina entrando ma poi è stato importante per portare alla vittoria poi credo chi possiamo sottolineare Dunfris l'abbiamo visto per la prima volta un po' più intraprendente anche se non ha fatto una partita straordinaria secondo me e Gekko ovviamente migliore in campo doppietta decisiva c'è poco da dire non so se tu sottolinei qualche altra prestazione individuale ma potrei citarti volendo a Cerbi che comunque ha contenuto Pinamonti non che Pinamonti abbia fatto chissà cosa per non farsi contenere e poi forse tra i negativi non so se volevi andarci Aslani oggi un po' più in ombra del solito anche per una una modo di difendere del Sassuolo che secondo me l'ha messo un po' in crisi e io sinceramente ti dirò nei negativi ci metto Lautaro perché è vero che si aveva sbattuto come sempre però per me è stato meno decisivo del solito in quel fondamentale lì e in più ci ha aggiunto un gol incredibile fallito per colpa sua uno per merito di consigli quindi quello non conta e qualche altro tiro con una mira completamente sballata detto che comunque perché bisogna sempre fare le precisazioni io Lautaro me lo tengo sempre però oggi mi è piaciuto un pochino meno del solito assolutamente assolutamente sono d'accordissimo andiamo in chiusura quindi di questa clip a parte arriveranno poi le pagelle con i voti della community di Passione Inter in chat e nei commenti fateci sapere se siete d'accordo oppure no mi raccomando aspettiamo i vostri commenti di Passione Inter